È bello che siate qui nonna e nonno. Certo, domani è il ventesimo anniversario di matrimonio dei tuoi genitori. Non ce lo perderemmo mai. Non ci hai mai raccontato la storia della nascita di papà. Ha anche un gemello. In effetti, tutto era normale alla nascita. Ma tua nonna ed io abbiamo scoperto solo più tardi che erano gemelle. Pensavamo di avere solo un figlio. C'è un altro bambino. Sì, un maschio e una femmina. Come li vogliamo chiamare? Che ne dici di? I selvaggi. Ma sono un maschio e una femmina. Ok, allora andiamo con Martin e Bono. E qual era la storia con la mamma? Con tua madre, la storia era un po' diversa, Lisa. Era qualcosa del genere. Ehi, lo senti anche tu? Sì, penso che provenga dal cestino. Che cos'è quello? Oh mio Dio, c'era un bambino lì dentro. Dovremmo adottarla? Certo, perché no? Possiamo chiamarla Marie. Quindi hai adottato la mamma? Smettila di raccontare sempre quella stupida barzelletta. Mamma, non è divertente. Ok, in realtà era così. Congratulazioni. È una femmina. Possiamo chiamarla Marie? Sì, Marie Peters. E come vi siete conosciuti? Ti ricordi ancora, Marie? Certo, come potrei dimenticarlo? Dai, dimmelo già. Ci siamo conosciuti poco più che ventenne. Ehi, Ollie. Ok? Ehi, Martin, amico. È bello vederti. Stiamo entrando? Sì, andiamo. Wow, il club è fantastico. Sì, va bene. Sei pazzo? È tutto pieno di ragazze cui. Ci sono polli qui? No, amico. Sto parlando delle patatine fritte calde. Ci sono patatine fritte qui? No, amico. Guarda dietro di te. C'è una ragazza sexy. Ehi, ti stava guardando. Andiamo. Parla con lei. Vuoi dire proprio così? Certo. In che altro modo? Ok. Va bene. Fratello, ho incontrato una ragazza ieri. Era davvero fantastica. Bello. Qual è il suo nome? Si chiama Marie. È più grande di me. Probabilmente 27 o giù di lì. Fantastico. Hai il suo numero? Certo. Cucineremo qualcosa insieme domani. Fantastico. E Marie, è bello vederti. Anch'io sono felice che tu sia qui, Martin. Vieni in cucina con me. Ho già preparato tutto. Cosa cucineremo oggi? Prepareremo un risotto e mangeremo il tiramisù per dessert. Suona bene. Credo che qualcuno sia alla porta. Sì, darò una rapida occhiata a chi si tratta. Ehi, sorella, hai del sai? Uh sì, ma in questo momento è brutto. Perché? Ah, ho dei visitatori. Sven è qui. No, non è Sven. Quindi hai un ragazzo qui o cosa? Gli darò un'occhiata. Fermati. Aspetta. Quindi sei il nuovo ragazzo di Marie? Ciao, sono Martin. No, sono Martin. Uok. C'è posto solo per un Martin cui. Nessun problema. Puoi chiamarmi Christophe. Mi piace quel tipo. Dovresti sposarlo. Wow, il Grand Canyon è ancora più bello di quanto pensassi. Non è l'unica cosa bella cui. Questo viaggio è davvero pieno di sorprese. La sorpresa più bella deve ancora arrivare. Penso che dovremmo tornare indietro lentamente. Ehi, perché sei in ginocchio? Vuoi essere mia moglie, Marie? Sì, lo so. E dottore, che aspetto ha? Per me va tutto bene. Sì, più che ok. Cosa dovrebbe significare? Congratulazioni, sei incinta. Vuoi sapere se sarà un maschio o una femmina? No, vogliamo che sia una sorpresa. Ok, ragazzi. Benvenuti alla nostra festa Gender Reveal. Sei pronto? Rosa significa ragazza e blu significa ragazzo. Giusto? Eh sì, esattamente buono. Perché stai pregando? Oh, proprio così. Ok, ci siamo. 3, 2, 1 Congratulazioni, è un maschio. Si ha. Tesoro, credo sia il momento. Cosa intendi? La pizza è pronta? No, il bambino sta arrivando. Ti porto subito in ospedale. Ok, penso che abbiamo tutto. Tutto quello che devo fare ora è portare Marino a ospedale. Ok, tesoro. È tutto pronto. Siamo pronti per partire. No, non funzionerà. Il bambino sta arrivando. Cosa? Il bambino sta arrivando. Chiama subito un'ambulanza. University Hospital, salve. Abbiamo bisogno subito di un'ambulanza. Avremo un bambino. Ok, dove ti trovi esattamente? Siamo a Wall Street. Vai più veloce. Ti prego, vieni subito. Ok, saremo lì il prima possibile. A presto. Cavolo, dov'è quella maledetta ambulanza? Devo chiamarli di nuovo. University Hospital, salve. Sono di nuovo io. Dov'è quella maledetta ambulanza? Aspetta, ti metto in contatto con il medico. Sì, ciao. Dove ti trovi? Sì, stiamo per avere un bambino. Oh sì, siamo dovuti andare al McDonald's per un minuto. Stefano aveva fame. Vieni subito qui. Sì, stiamo arrivando. Quanto è lontano il bambino? Beh, posso già vedere la testa. Cosa vedi nella testa? Sì, è così grave? Devo fare qualcosa? Mettici subito la mano sotto. È così che sei venuta al mondo, Lisa. Davvero, era qui sul divano? Questo spiega molte cose. Tuo padre ed io ci siamo sposati poco dopo. Vuoi che Marie, Martin sia tuo marito? Sì, lo so. E vuoi che Martin e Marie siano tua moglie? Sì, lo so. Quindi vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa adesso. Una volta succedevano cose così belle. Perché ora non è più così? Perché voi giovani siete incollati al cellulare tutto il giorno? Non riconosceresti nemmeno niente di figo. Stai guardando il tuo schermo tutto il giorno. Il nonno ha ragione, Lisa. Forse abbiamo bisogno di una disintossicazione dal cellulare. Cosa intendi con questo? Cerchiamo di non usare i nostri cellulari per tre giorni. Sono sicuro che sia un bene per noi. Il mio tempo davanti allo schermo è di dieci ore. Per me sono quasi le dodici. Ok, lo faremo, ma non prima di domani. Il nuovo episodio della mia serie preferita esce oggi. Ok, allora per tre giorni da domani. E non possiamo mentire. Ok, a fare. Cosa? Sono già le nove. Vediamo cosa sta succedendo su Instagram. Accidenti, non posso usare il mio cellulare. Ok, devo solo avvisare i miei follower. Ok ragazzi, è tutto. Sono fuori. Niente cellulare, niente laptop, niente social media. Ci rivediamo tra tre giorni. Mi sto godendo la vita reale per ora. Cosa dovrei fare tutto il giorno adesso? Chiederò a Samuel cosa gli sta succedendo. Samuel, che ti succede? Niente. È un'ora che guardo il soffitto. Cosa stai facendo? Neanche niente. Senza un cellulare. La vita in qualche modo non ha senso. Possiamo andare fuori. E poi? Non possiamo nemmeno pubblicare una storia. Sì, è vero. Ma cos'altro dovremmo fare tutto il giorno? Ok, andiamo fuori. Possiamo uscire a mangiare un hamburger. Sai che ore sono? Non ne ho idea. Non ho un cellulare. Amico, hai già visto il nuovo video di Like Germans? Sì, amico, è stato il video più intenso di tutti i tempi. Il video era troppo bello. Ma lo cancelleranno di nuovo tra 24 ore. Cavolo! Ci manca il nuovo video. La vita senza cellulare è davvero fastidiosa. Non farti influenzare dai due laggiù. Sono dipendenti dai loro telefoni cellulari. Dai, andiamo al parco e godiamoci la natura per un po'. Sì, buona idea. Qui è tutto pieno di telefoni cellulari. Avevi ragione, Lisa. È davvero bello quassù. Sì, vedi. Comunque, a chi servono i cellulari? Oh mio Dio, è. Sei in tu, Cristiano Ronaldo? Sì, lo sono. Cosa stai facendo quassù? Stiamo per giocare la nostra partita contro il Bayern. Vengo sempre qui quando ho bisogno di un po' d'aria fresca. Puoi fare una foto con te? È sempre stato il mio sogno. Certo, hai un cellulare con te? No, l'ho lasciato a casa. Sto facendo una disintossicazione dal cellulare in questo momento. Beh, allora immagino che non funzionerà con la foto. Odio questa sfida. Tu, Martin. Sì, tesoro. Penso che ci sia qualcosa che non va con i nostri figli. Perché? Cos'è successo? Sono in soggiorno da tre ore a guardare il muro. È una nuova tendenza o qualcosa del genere. No, penso che siano solo annoiati. Perché non sono autorizzati a usare i loro telefoni cellulari. Oh, sì. Potrebbe essere così. Parlerò con entrambi. C'è un posto qui che non ho mai visto prima. Sì, ne ho già trovati due. Penso che più rimango qui, più si macchiano. Sì, può essere. Cosa stai facendo lì? Stiamo guardando il muro. Ha davvero bisogno di essere dipinto di nuovo. Perché lo fai? Siamo annoiati. Cos'altro dovremmo fare? Forse ti godi la vita? Non puoi farlo senza un cellulare. Non puoi smettere di usare il tuo cellulare da un giorno all'altro. Cosa intendi con questo? Devi iniziare in piccolo per ora. Ad esempio, usa il tuo cellulare solo per un'ora al giorno. Quindi ora posso usare il mio cellulare? Sì, ma solo per un'ora. Devo andare subito. Finalmente, il mondo è tornato in equilibrio. Oh cavolo, tanti nuovi video e non li ho ancora guardati tutti. Sarà il giorno più bello della mia vita. Cosa? L'ora è già finita. Non può essere. Mi sono sembrati dieci minuti. Non voglio mettere via il mio telefono. O no, la mia giornata è rovinata. Usami. Il cellulare mi ha appena parlato. Usami tutto il giorno. Baby. Oh mio Dio, sono davvero dipendente dai cellulari. Devo allontanarmi rapidamente da quella cosa. Ehi Samuel, cosa stai facendoli? L'ora è finita da tempo. L'ora è finita da tempo. Ancora cinque minuti? Per favore. Voglio solo dare una rapida occhiata alle storie di Sara. No, sei un tossicodipendente. Metti via subito quella cosa. I cellulari fanno schifo. Ok. Il telefono è sparito. Cosa c'è adesso? Dai, prepariamoci la colazione. Questo ci distrae un po'. Dovremmo davvero mangiarlo senza pubblicare una foto? Sì, certo. Cos'altro? Ma poi nessuno sa cosa abbiamo mangiato a colazione. Comunque non interessa a nessuno. Sono qui, Lisa. Vieni da me finalmente. Zitto. Voglio che mi lasci in pace. Capito? Con chi stai parlando lì? Mangia i tuoi pancacche. Ok. Qualunque cosa tu dica. Cosa facciamo dopo colazione? Credo che la festa in piscina di Marco sia oggi. Ma l'invito è sul mio telefono. Oh, penseremo a qualcosa di figo. Cosa sta succedendo di nuovo qui? Stiamo di nuovo fissando il muro. Perché non esci e ti diverti? Comunque niente è divertente senza un telefono cellulare. Qual è il tuo problema? Ho battuto il mio record. Ho già trovato cinque posti oggi. La tua generazione è davvero perduta. Dai! Ti mostrerò come puoi divertirti anche senza cellulari. Proprio come ai vecchi tempi. Dove stiamo andando? In un posto dove non ci sono telefoni cellulari in lungo e in largo. Era il mio posto preferito in città. Cosa puoi fare lì? Lo vedrai molto presto. Vedi. Puoi divertirti anche senza cellulare. Sì, e i marshmallow sono davvero deliziosi. Il posto qui è davvero carino. Grazie papà. Possiamo venire qui ogni fine settimana se vuoi. Sì, sarebbe bello. Oh, il calcio sta iniziando. Volevo darci un'occhiata veloce. Pensavo che i cellulari non fossero ammessi qui. Perché mi guardi così? Non sono dipendente. Quanto tempo trascorre davanti allo schermo Samuel? A. Cinque ore B. Dieci ore C. Quindici ore Lascia un commento.